Io e mamma Donietta stiamo in diretta. Volemmo fare una diretta a Redi Unificate. Senti prima però, visto che ci stai anche tu, stasera facciamo la diretta dove ci stanno tutte le persone. Lì alla pagina. Ma visto che ci stai anche tu, dammi un messaggio pubblicitario del gruppo mio. Invitali a iscriversi. Io? E certo. Te dessero più retta a te. Ma non ho retta a te che tu hai più per farli meglio. Senti, secondo te perché potrebbe essere interessante per loro iscriversi al nostro gruppo dove faccio le dirette tutte le sere? Che ci stai anche tu. Secondo te è una cosa positiva? Che ti dico può essere per certi sì, per certi no. Ma che pubblicità mi fai? Dai 10 assolutamente. Ma che è meglio? Guardare la televisione o sentire la musica mia? Per me è meglio sentire la musica tua. Ecco, quindi gli consigliamo di iscriversi al salotto della fisarmonica. Più sedere meglio è. Su. Ci sta anche Daria, da come? Amica tua, eh? Ma certo. È in diretta, ho visto, è Cristina. Chi ha piacere di seguirci? Tutte le sere faccio le dirette nel salotto della fisarmonica, che è un gruppo privato dove la mattina escono anche i video con la principessa mamma Antonietta. È una persona importante. Eh, tu sei diventato un personaggio pubblico ormai. Dai. Grazie, sei contenta? Come no? Certo. Ecco. Ce vorremmo le sere un po' d'anni. Eh, quello non si può fare. Ti tocca teneteli. È un gruppo che prevede di pagare un abbonamento annuale di 39 euro. Secondo te? 39 euro l'anno, so tante? 39? Giusto 40? Che significa un euro meno. 40 euro l'anno, so tante? Ma certo che so poche. Quante so? Eh, so 10 centesimi al giorno. Beh, sì ma tu. Allora. Tantini buttano con gli altri 10 centesimi. Ma dai, su dai, fumano pure sigarette tanti, che fa pure male. Pagano l'abbonamento da Rai TV italiana che gli fanno vedere. Per quanto costa adesso? Tutte bugie, tutte mezzogne e disinformazione. Almeno ci hanno un'alternativa serale alla TV, che è il salotto della fisarmonica dove l'aspettiamo tutti quanti. Dai, basta con i chiacchiere. Ecco, acqua e chiacchiere e un po' frittella. Acqua e chiacchiere e un po' frittella. Abbassiamo un po' qui. Iniziamo l'allegria. E qui c'è? No, non ti muovere. E' uguale, solo che se stai nascosto un po' con il braccio, no? Ecco, va bene. Allora ricomincio perché mi ha interrotto i suoni. Ah no, aspetta che devo avvisare tutti quanti, mi sono scordato, no?